Lavori in vista nel comune di Marcaria, dove tra fine anno e l'inizio del 2020 verranno assegnati importanti interventi che andranno a beneficio di tutta la collettività. Lavori stradali quindi, ma non solo. I cantieri interesseranno infatti anche alcuni edifici destinati alla fascia più giovane della popolazione e dalle attività sportive di tutto il territorio. In questo scorso di fine anno le attività dei lavori pubblici del comune di Marcaria stanno procedendo molto bene. Posso dire che verranno lanciate le gare per l'appalto dei lavori nel rifacimento del Monsignor Benedini, così come ancora più importante il lancio della gara per l'asilo nido di San Michele, la struttura nuova che abbiamo fortemente voluto e per la quale abbiamo intercettato anche dei fondi erogati dal Galle, quindi che alleggeriscono quello che è il diretto impegno dell'amministrazione. Sempre in queste settimane verrà sistemata Vioglio San Michele, opera che in realtà è fortemente sentita come problema dai cittadini di San Michele e allo stesso tempo dovremmo assegnare i lavori per quello che è l'area attiva al campo sportivo di Marcaria, quindi con il completamento di quell'opera che era già iniziata e completata con il rifacimento degli spogliatoi. Questo scorcio di fine anno e le prime settimane del 2020 vedranno l'amministrazione molto impegnata, ma su una tipologia di attività che ormai non trova più freno. Per Marcaria si pronunciano dunque settimane ricche di lavori per un nuovo anno che porterà un paese più sicuro e rinnovato.